Dopo la chiusura del centro diurno Alzheimer di Battipaglia, con la disponibilità da parte del parroco Don Michele Olivieri, parroco di San Gregorio VII, ad ospitare i pazienti nella struttura della chiesa, l'amministrazione ha più volte sollecitato il commissario dell'Asile Iannuzzi con il dottore Pino Bovi per trovare un accordo. Il comune, anche prima della chiusura effettuata dai NAS, ha fatto le proroghe necessarie per mantenere aperto il centro. Al momento, però, solo grazie a Don Michele Olivieri, che ha accolto l'associazione AIMA riconosciuta a livello nazionale nelle proprie strutture, si è riuscita a dare la continuità assistenziale a questi pazienti. Martedì la prima cittadina a Cecilia Francese ha fissato un incontro al comune di Battipaglia, con le associazioni sindacali anziani, altre associazioni battipagliesi, l'ASL e Don Michele Olivieri.